Quando cerchi una ricetta solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto, due cuore e una cappa è il posto giusto Ed eccoci pronto per il più buono dei gelati, il mio preferito La coppa, la delizia alla marena, detto da me il gelato delle sciure perché questo mi ricorda la mia mamma, le signore che il pomeriggio prendono un gelato Non so perché, io l'ho sempre visto con il gelato, la coppa alla marena Però c'è che si scioglie Ci occorre del gelato alla vaniglia, delle meringhe, le amarene sciroppate della panna, gelato anni 80, rigorosamente questa e poi se volete altro sciroppo d'aggiunta, io qui ne ho vari E' una coppa anni 80, non potete fare questo gelato se non avete la coppa anni 80 Prendiamo una meringa e sbricioliamola sul fondo, così Quindi prendiamo un paio di palline di gelato Buono Cosa? Sembra buono Che non l'hai mai mangiato? No La temperatura a Catania finalmente è scesa un po' e quindi Il gelato tiene Il gelato tiene un attimo di più Ne mettiamo tre palline Tre palline? 3 euro? No va, mettiamone quattro palline Facciamolo bello Infatti Infatti Fattilo tutto Quattro palline di gelato, bando la valizia Mettiamo un paio di amarene più in vista possibile Ce ne sono tre in tutto E chi l'ha finite? Eh non lo so, un bel po' di sciropp house Spezzettiamo la meringa qua e là Io ne metto una, non più di una Panna montata No vabbè Cosa? No vabbè Di qua è bellissima E poi? E quindi Sciroppo alla marena Mamma mia Bellissima Amarena Questa la devo mettere col dito ragazzi perché va qui e una qui Una meringhetta la mettiamo qua E voilà il gelato per l'asciura è bello e pronto Naturalmente ogni mamma lo divida con la figlia Ora vi faccio vedere la bellezza Guardate che meraviglia La sua consistenza morbidosa Questo è tv veramente reale Adesso vi lasciamo alle foto E noi ci vediamo al prossimo video Golosissimo Buon'estate Anni 80 E noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao